Grande fratello, penultima puntata. Bobby solo, canta per la figlia Veronica. La settima puntata del grande fratello è ricca di colpi di scena. Quattro i finalisti, Simone, Matteo, Alessia e Lucia, mentre Alberto e Veronica vanno al televoto per il posto di quinto finalista. Una doppia eliminazione manda fuori Danilo e Filippo. Protagonisti della serata i sentimenti. Alberto commuove tutti parlando del padre scomparso quando era ancora bambino. Veronica ascolta la canzone che Bobby solo ha composto per lei. La diretta della settima puntata ha visto in primo piano i legami familiari, in particolare di due concorrenti, Alberto e Veronica, ma anche alcuni scontri infuocati come quello tra Simone e Angelo, che dallo studio invece contro il Coccia e lo accusa di essere un falso. Ad accusare Simone arrivano anche due protagoniste della tv, che gli rinfacciano il suo passato di playboy. Vediamo che cosa è successo. Grande Fratello 2018 Ad aprire la puntata è come al solito Barbara D'Urso, elegantissima, in un abito nero, con trasparenze, che inizia la diretta dicendo che tutti i concorrenti sono a rischio. Dopo il video della settimana, che ha mostrato come Simone, primo finalista, ha avuto discussioni con tutto il gruppo. Prende la parola dallo studio Angelo, che dice al concorrente di averlo deluso perché si è sentito giudicato, poi lo accusa anche di averlo toccato. Imperturbabile e quasi indifferente, Simone mantiene un atteggiamento neutrale, lo stesso che userà quando più tardi ci sarà il confronto con le accusatrici Morali e Floriana. Le due donne riveleranno infatti un passato di Simone da playboy, che nessuno conosceva. Pare infatti che Simone in passato ci avrebbe provato con loro e a Floriana avrebbe persino mandato foto hard. Un momento di clamore che di certo non piacerà alla senatrice Stefania Pezzopane. Veronica e Alberto in lacrime per le loro storie familiari. Intenso e commovente è il momento dei sentimenti al grande fratello. Barbara parte con Veronica e dopo averle mostrato un video in cui si vedono i nonni che si dicono felici della storia della nipote con la fidanzata Valentina, la conduttorice racconta che Bobby solo le ha scritto di voler finalmente incontrare la figlia dopo il grande fratello e per dimostrarle il suo affetto le canta una canzone che aveva scritto quando lei aveva tre anni. Veronica scoppia in lacrime ma è felice di quanto sta accadendo. Per la prima volta anche il Tarzan della casa Alberto mette a nudo i suoi sentimenti e si commuove pensando al padre scomparso quando era bambino. Il giovane lo ricorda come una persona insolare e allegra, amante della vita. Arriva per il concorrente il sostegno della madre Daniela che gli assicura come suo padre lassù dal cielo sia fiero di lui. Grande fratello 2018 Danilo e Filippo eliminati Quattro finalisti in gara Nuovo televoto per il quinto finalista Durante la puntata del grande fratello ci sono state anche due eliminazioni ma sono stati decretati anche altri tre finalisti. Il primo ad uscire è Danilo che poi in studio si scusa con Lucia Bramieri per una frase volgare che ha rivolto verso di lei. Dopo l'incontro tra Matteo e la sorella di Alessia, Marica la conduttrice chiede ai concorrenti di decidere chi tra i due fidanzati dovrà andare in nomination. I ragazzi mandano Matteo al televoto che sceglie di sfidare Filippo e Alberto. I concorrenti però non sanno che il più votato sarà il secondo finalista mentre il meno votato uscirà dal gioco. Il voto flash decreta Matteo secondo finalista mentre Filippo è fuori. Subito dopo si apre un nuovo televoto tra le ragazze per decretare altre due finaliste. A vincere sono Alessia e Lucia mentre per Alberto e Veronica si apre un nuovo televoto che il lunedì prossimo deciderà il quinto finalista. E voi che ne pensate del passato di Playboy di Simone Coccia? Ed è il riavvicinamento di Bobby Solo verso la figlia che per 15 anni ha sempre evitato? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. iscriviti al canale